Filler si ero occhi con acido ialuronico e caffeina. Riduce rughe, occhiaie e borse. Cerchi casa nella prateria? E' immobiliare, Watson. Scaricala! E' immobilizata, guardata, guardata e abstracPorti, lei e Civico V место per A scripture dice che aveva scato o car inferno da sogno, i I miss you no mangi day Tornagare you感じ da Ah,柔らかく Amai ki分 Fuwa fuwaして Kukuroには Kimi gata no Ana ga airu no Chancelato nella Yori con da koi no Ho 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 Ha zimari mo' uai mo' nai Tornagare in a love room Tornagare in a love room Yeah, yeah, yeah Every single day Nandomo kimi ga ukan de Itsu no mani ka somere teku Sama ni na te no Kirito ni rinikしてる ne Memori no yori ni ga teki Ai, 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 ai No, atomo koi wa Sulu kiwa nai kara Ah,柔らかく Amai ki分 Fuwa fuwa hichiteru Kukuro ni wa Kimi gata no Ana ga airu no Chancelato na Maa yori con da koi no Woo, woo, woo Ha zimari mo' uafi mo' nai Vakari no love room Vakari no love room Yeah, yeah, yeah So deep, so empty, I need you So deep, so empty, so empty, I need you Kuru kuru megru feeling Kimi o suki ni na te Kimi no katachi no ana ga Wow! Kimi dake rouspice Ah, saki nanda, saki nao ya Saki nao ya Ali xikai deemo Kuro ni wa kimi ga dao Ama ga vai teru no Non è così, non è così, non è così. Grazie a tutti Grazie a tutti